direttamente, che parlano anche di un rischio possibile. Il finale, quasi poco prima del fischio finale della partita, ci sono state queste agitazioni, discussioni animate tra giocatori della Juventus e giocatori del Bologna. Ecco, vedete, a un certo punto si vede nelle immagini, lei interviene per sedare la rissa, ma c'è un tifoso che prova a tirare uno schiaffone a un giocatore del Bologna. Questi sono i rischi di un nuovo stadio che impone una nuova cultura, no? Beh sì, diciamo che un ceffone non ha mai ammazzato nessuno, ecco, partiamo da questo presupposto.